Dopo un infinito tira e molla, interpretazioni, polemiche e anche accesi scontri verbali in Consiglio Comunale tra opposizione e amministrazione, il civico Consesso Sant'Agatese ha approvato l'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed eletto i due componenti che vanno ad aggiungersi all'ex revisore unico, Piero Ferrante. 12 consiglieri presenti alla votazione, l'opposizione per intero, più Enrico Natale. Gli altri consiglieri del gruppo di minoranze in appoggio all'amministrazione sottile hanno invece lasciato i lavori prima del voto. Al termine dello scrutinio segreto sono stati quindi eletti Giuseppe Ricciardi che ha ottenuto quattro voti e Salvatore Belgiorno con tre voti. Due voti sono andati invece ad Antonino Mineo, mentre le schede bianche e nulle sono state in tutto tre. Il Consiglio Comunale ha quindi votato anche il Presidente del Collegio dei Revisori, eletto Piero Ferrante che ha ottenuto 11 voti su 12. I nuovi revisori si insederanno nei prossimi giorni e rimarranno in carica fino a febbraio 2017. Sull'integrazione dell'organo di revisione contabile a Sant'Agata Militello, come detto, da mesi si trascinava un'aspra polemica. Già nel marzo scorso l'opposizione aveva infatti ritenuto di presentare la proposta di integrazione del Revisore con altri due membri in osseguia la decisione della Corte dei Conti in materia di controlli finanziari sugli enti locali per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Differente invece la versione del gruppo in sostegno all'amministrazione che riteneva adeguabile la composizione del Collegio solo alla fine del mandato del Revisore Unico. Sulla vicenda l'amministrazione chiese quindi un parere alla sezione di controllo della Corte dei Conti che lo scorso settembre si è quindi espressa per l'immediata integrazione con altri due revisori.